Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video slime oggi ne sto filmando un bel po' e oggi video con le vostre ricette e la ricetta di oggi è di Sara che ci dice puoi provare questo slime senza colla, sapone liquido, acqua e sale e mettilo in frigor? certamente lo proviamo subito, ti ringrazio Sara ti mando un bacio prima di incominciare però ti ricordo che se vuoi anche tu che realizzi il tuo video personalizzato o la tua ricetta slime o qualsiasi altro video devi iscriverti al canale, mettere un bel like e lasciarmi un commentino qui sotto con la tua ricetta o con il tuo video richiesta mi raccomando attiva le notifiche altrimenti non potrai vedere non vedrai il video e se vuoi seguimi su Instagram per partecipare ai direct, ai sondaggi scrivermi dove vuoi insomma e stare in contatto con me e incominciamo subito allora dobbiamo aggiungere appunto il sapore liquido ecco qui poi aggiungiamo un po' di acqua non ci dice quanta così e e un po' di sale che io ho qui e adesso andiamo ad aggiungerlo fischiamo e mettiamolo in frigo ed ecco qui il risultato finale ed ecco qui e ecco qui